Ciao da Afsim! Quando parla Andrea Agnelli bisogna sempre stare a sentire, anche quando scrive. Comunque è un modo per comunicare e lo ha fatto nella sua lettera agli azionisti Juventus che è stata pubblicata appunto ieri 22 settembre in funzione, in vista dell'Assemblea degli Azionisti del prossimo 15 di ottobre. Non si parla solo di tecnicismi finanziari, economici e contabili, quindi non è una cosa noiosa, anzi è una cosa molto importante. Ma ripeto, la tifosi della Juventus e non solo, perché Andrea Agnelli è una persona molto interessante e molto colta dal mio punto di vista, quando lui parla dovremmo fermarci un attimo ad ascoltare e a cercare di capire che cosa realmente vuole dire. I punti fondamentali della sua lettera agli azionisti non sono tanti, sono sostanzialmente 4 o 5 e li andiamo ad analizzare ponendo le nostre riflessioni, le mie in questo caso, ma anche le vostre appunto nei commenti, facendo un po' di dibattito e confrontandoci, perché ci sono temi importanti che riguardano la Juventus, ma non solo, e anche per questo dico non solo i tifosi della Juve. Si parte quindi dallo scudetto, dagli obiettivi stagionali e anche gli altri trofei, passando per gli investimenti, per la crisi naturalmente generata dalla pandemia, per gli obiettivi futuri finanziari e non solo, a livello di brand ma anche a livello di campo, fino ad arrivare al discorso dei diritti tv, che è molto importante, molto attuale, e che ripeto dovrebbe riguardare tutti, perché è una tematica di governance, in cui Agnelli per l'ennesima volta, perché lo ha già fatto in tante altre occasioni, si è portato lui avanti, mettendoci praticamente la faccia, nel cercare di smuovere un po' una situazione che evidentemente non è formulata nel migliore dei modi, non è strutturata nel migliore dei modi, che però è un discorso che andrebbe, nel caso ci saranno modifiche, in tal senso a beneficio di tutti gli altri club, cioè non è solo la Juve che può beneficiare di una modifica nella governance dei diritti tv, ma qualsiasi altro club a livello europeo ma anche nazionale. Forse non proprio tutti, perché c'è un discorso di mutualità, e cioè ci sono dei piccoli club che beneficiano dell'attuale redistribuzione, dell'attuale gestione e normativa sui diritti tv, ma appunto andiamo con ordine e cominciamo con il parlare dell'obiettivo scudetto e di come Agnelli l'ha raccontato in questa lettera agli azionisti. Intanto ha salutato tutti chiamando campioni d'Italia, chiamandoli campioni d'Italia, e questo dice non deve essere assolutamente scontato, come a dire l'eliminazione dalla Champions League non deve farci dimenticare che abbiamo vinto il nono scudetto di fila, la pandemia non deve farci dimenticare questo, cioè se parliamo di Juventus, se parliamo di campo, se parliamo di obiettivi, nove scudetti di fila, siamo campioni d'Italia per il nono anno consecutivo, ma il decimo scudetto è una vetta da scalare, non è un dato scontato, ha detto, e questo credo che sia molto importante, perché realmente molti di noi, anche tra noi tifosi, anche i più scaramantici, forse pensano un po' troppo che questo decimo scudetto sia di default, perché sapete hai fatto nove, fai dieci, è normale, dovrebbe essere quasi per inerzia, ma non è così e non sarà così, pur con tutte le motivazioni del mondo che possono avere i calciatori, sarà molto, molto, molto difficile, lo è già, è già difficile in questo momento, al di là poi del 3-0 la Sampdoria e di tutte le cose belle che possiamo vedere ed immaginare, a livello proprio di obiettivo, di lavoro, di impegno, per Andrea Agnelli e quindi per Juventus, lo scudetto deve essere percepito come una vetta da scalare, l'ennesima, ennesima dopo i nove, ma in realtà poi anche la decima volta che ci troviamo a raggiungere un obiettivo del genere, se ci riusciremo, ma ovviamente la Juve vuole vincere tutto, dalla Supercoppa Italiana alla Champions League, dallo scudetto alla Coppa Italia, ha detto appunto Agnelli in questa lettera agli azionisti, perché gli obiettivi sportivi, ovviamente sono al primo posto di una società sportiva, però, e qui passiamo al secondo punto, diciamo che ci sono stati, ci sono degli obiettivi ecco necessari, cioè una competitività necessaria, alla quale però, è necessaria per che cosa? necessaria per le finalità, per gli obiettivi diciamo intrinseci della Juventus come società di calcio, ma anche per accrescere il brand, anche per acquisire maggiore importanza e rilevanza fuori dal campo, ma per raggiungere questi obiettivi, questa competitività necessaria, c'è bisogno di potenti investimenti, Agnelli ha sottolineato questo, sono stati fatti tanti investimenti, a livello proprio economico, sostenuti anche dagli azionisti, quindi dai soci, in particolare da Exor, dai partner, volendo anche dai tifosi, che hanno dato il loro contributo, in tal senso Agnelli ha ringraziato tutti, nella sua lettera, però il punto qual è? È che evidentemente la Juve è andata oltre, con gli investimenti, cioè gli investimenti che sono stati fatti, in questi anni sono stati veramente, molto importanti e gravosi, cioè bisogna guardare a questo in maniera, con sensibilità, non bisogna dare per scontato neanche questo, che siano stati messi tutti questi soldi, che siano stati fatti questi investimenti, che Agnelli difende come scelta, perché dice, per raggiungere una certa competitività, devi fare certi investimenti, e si parla naturalmente di Ronaldo, si sottintende Ronaldo, si sottintende De Ligt, e tutte le grosse spese che ha sostenuto la Juve, soprattutto, soprattutto Cristiano Ronaldo, però appunto c'è anche l'altro discorso, della posizione finanziaria, che dice Agnelli, bisogna fare molta attenzione, bisogna fare forte, è sotto forte attenzione, l'attuale posizione finanziaria della Juventus, già che l'equilibrio, che si era raggiunto nel triennio 14-17, è stato appunto rallentato, da questi potenti investimenti, da questa forte propensione all'investimento, un po' come a revisionare la situazione, cioè Agnelli, un po' come se volesse dire, dobbiamo anche un po' tornare, a quell'equilibrio, per farlo però, non dobbiamo rinnegare gli investimenti che abbiamo fatto, perché sono stati assolutamente utili, perché sono stati assolutamente finalizzati a qualcosa di importante e di necessario, come appunto la competitività da acquisire, con tra l'altro, questi grandi investimenti, che hanno comunque portato ad una straordinaria crescita nei ricavi, oltre che ad una crescita del brand e della Juventus dentro e fuori dal campo, quindi il percorso che è stato fatto dalla Juve, è stato un percorso dispendioso letteralmente, è stato un percorso rischioso, coraggioso, assolutamente, ma un percorso meritevole, che bisogna difendere andando avanti, continuando sulla stessa strada, ma anche al fine di non tanto tornare indietro, cioè al triennio in cui avevamo un equilibrio di bilancio, ma andando comunque avanti per recuperare anche una certa solidità finanziaria, che in questo momento, ripeto, è oggetto di forte, necessariamente forte attenzione, perché bisogna poi guardare anche a quello, non si può soltanto spendere, 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 sperando, pensando che questo poi possa portare ad un aumento continuo, incessante di ricavi, tenendo poi sana quella che è la macchina e il bilancio della Juventus, invece no, bisogna fare molta attenzione, eppur continuando a sostenere questi investimenti, c'è bisogno pure di ritornare un pochino nei ranghi, ma per farlo, e veniamo al discorso diritto TV, diritti TV, sarebbe anche auspicabile un cambiamento della governance, perché ci sono dei ricavi che, a differenza di quelli, diciamo, strutturali della Juventus, non sono cresciuti di pari passo. Agnelli lo dice proprio chiaramente, cioè tutti i ricavi della Juventus, con questi grandi investimenti rischiosi, coraggiosi, sono cresciuti nella stessa misura, percentuale naturalmente, nella stessa misura relativa, l'unica voce di ricavo, che non è cresciuta di pari passo, è quella dei diritti TV, sia italiani che europei, dice Agnelli, e il punto qual è? Che il rischio di impresa è sostenuto dai club, cioè, chi è che gioca a calcio, chi è che scende in campo, chi è che acquista i giocatori che devono andare in campo, chi è che paga le strutture, chi è che fa investimenti, i club. Tutto questo lo fanno i club, i club fanno tutto quello che riguarda poi lo svolgimento delle partite e delle competizioni, quindi quello che riguarda il calcio in campo, lo fanno i club, a livello di rischio di impresa e a livello di investimenti. Però poi sono altri soggetti, e quindi c'è questa bipartizione, questa biforcazione, questa separazione, che è alienante, ed è da mettere in discussione, tra appunto chi investe e chi ricava, perché va in campo una squadra, e quindi un club che ha sostenuto degli investimenti propri, ma i ricavi per quella competizione, da diritto TV, vengono mediati, filtrati, gestiti da un altro soggetto, che è la FGC, che è la UEFA. E quindi Agnelli dice, non è una critica, è anche un modo per, è un discorso su cui dobbiamo ragionare, dobbiamo confrontarci, perché è vero che in questo momento la struttura, ripeto, richiama un discorso di mutualità, cioè, sostanzialmente, Agnelli ha voluto dire, noi paghiamo per gli altri, gli altri guadagnano sulle nostre spalle, e cioè, la squadra piccola in Serie A, che retrocedi, o che viene neopromossa, ma anche quelli che sono semplicemente in medio-bassa classifica, beneficiano dell'eventuale aumento anche di ricavi dei diritti TV, grazie alla Juventus, grazie alla Juventus, che magari compra Cristiano Ronaldo e De Ligt, ma non ne ricava la Juve direttamente, proporzionalmente. Quindi ci può stare, dice Agnelli, il discorso di mutualità, però, a livello di governance, discutiamo un attimo questo aspetto, perché non è neanche tanto giusto, che io accresco il valore commerciale del prodotto, e non ne vado a beneficiare in maniera diretta. E qui entriamo allora al discorso proprio del cambio, più che della governance, del cambio strutturale del sistema, e cioè del passaggio alle media company. Ecco, la Serie A sta creando una media company, è un discorso che è molto attuale anche in altre leghe, non entro nel merito, perché c'è il discorso dei fondi esteri, è una situazione in questo momento molto precaria, in via di divenire, quindi ci saranno molte novità, probabilmente ci sono dei tecnicismi, in cui ripeto non voglio entrare, ma c'è anche un obiettivo parallelo, che pone addirittura alcuni club, i grandi in particolare, in competizione mediatica, cioè per la finalità di intrattenimento, e quindi di vendita del prodotto commerciale, con le stesse leghe che organizza dei campionati. Cioè, la Serie A farà una media company, per andare a sdoppiare un'istituzione, un ente organizza il campionato, e l'altro lo vende a livello commerciale. con la media company, può andare in competizione una società come la Juventus, che già da anni ha lanciato questo obiettivo, questo programma, da parte di Agnelli, diventare un club che bada, una società che punta all'intrattenimento in generale, che possono essere le proprie partite giocate, o può essere anche altro, per esempio gli e-sports. Agnelli su questo è stato chiaro già da tempo, e quindi evidentemente nasconde questo malumore, questo malcontento, ma anche questo obiettivo, Andrea Agnelli nella sua lettera agli azionisti 2020, e cioè cerchiamo di svincolarci da queste maglie strette, di allontanarci da questa struttura che ci ingabbia, e che ci tarpa praticamente le ali e le possibilità, e cerchiamo di andare oltre, costruendo una struttura sostanzialmente diversa. E con buona pace eventualmente della mutualità, ma deve anche esserci come sul campo, pure nella finanza, una competizione sana e normale. Se io sono in grado di fare meglio, è giusto che io ottenga anche un po' di più. È un discorso scivoloso, è un discorso complicato, quindi mi fermo qui, ma sostanzialmente volevo darvi questi spunti di riflessione. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, e nel caso mettete like qui sotto, e ditemi come la pensate su queste parole di Andrea Agnelli, così interpretate. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!